ciao ragazzi come potete vedere siamo in trasferta questa non è casa nostra siamo in vacanze in alto adige ci stiamo ammazzando di passeggiate come se non ci fosse un domani potete vedere la sua faccia distrutta dalle camminate odierne abbiamo fatto sei ore di camminata ma non ci siamo dimenticati di voi non ci siamo dimenticati della nostra rubrica preferita quella dei pronostici e quindi siamo qua come al solito per fare i pronostici della serie a anche oggi andremo a vedere come sono andati i pronostici della prima giornata quella che è passata e faremo i nostri pronostici della seconda giornata andiamo a provare e indovinare i risultati esatti di ogni partita e ovviamente aspettiamo anche i vostri nei commenti se volete sapere come funziona questo gioco è tutto scritto in descrizione il regolamento punteggi come partecipare e quant'altro quindi vi aspettiamo numerosi nei commenti e evitiamo anche lasciare un like per sostenere questa rubrica questo canale è quello che siete iscritti tastino iscriviti e siamo tutti felici soprattutto io ma anche lei ma benissimo quindi partiamo e vediamo cosa sono andati i risultati della prima giornata dove ci sono stati diversi risultati a sorpresa sia nelle partite che anche tra i pronosticatori siamo stati in 18 per questa prima giornata vediamo chi l'ha portata a casa partiamo da genoa inter che è stata la prima sorpresa della giornata si è aperto il campionato con i campioni d'italia dell'inter che avevano ad onore del vero l'avevo detto una partita non banale amararsi contro il genoa nello stadio ferrani sia sempre tosto comunque portare a casa la pellaccia e il genoa anche magari con un po di fortuna ma diciamo senza mollare mai all'ultimo minuto si porta a casa un 2 a 2 prestigioso diciamo e ci fa sbagliare il pronostico ovviamente perché entrambi avevamo detto 1 a 2 per l'inter quindi ovviamente io da milanista stato anche contento di quel gol del genoa ma per i pronostici fosse rimasta 1 a 2 sarebbero stati tre punti i tre punticini per noi invece no zero punti esatto invece questo piccolo passo falso dell'inter ci porta a zero punti in classifica ma ci rifacciamo subito con parma fiorentina a partire che si è giocata in contemporanea a quella dell'inter sempre sabato alle 18 e 30 partita che ha visto il parma ne ho promosso a fermare la fiorentina sull'uno a uno ed entrambi avevamo detto uno a uno questa volta siamo stati bravi dai tre punti per noi avevo detto il parma comunque la ne ho promosso secondo me di valore ed è riuscita a fermare la fiorentina e ci prendiamo questi tre punticini molto importanti empoli monza questa tosta lo dice perché è andata bene tosta mi aspettava una partita combattuta però io avevo visto il monza che riusciva comunque a portare a casa la vittoria in trasferta contro l'empoli 0 a 1 purtroppo sbagliato io invece avevo detto 0 a 0 e effettivamente è finita così il risultato a occhiali il risultato a occhiali ha portato bene questa volta per fortuna non ha gli occhiali da soli da mettersi per spammarmelo proprio in faccia però no lo sapevo li va a prendere perché l'ho detto ma no il risultato a occhiali ecco per la copertina questo bellissimo e quindi tre punti ancora per lei che parte quindi veramente col botto e invece 0 per me mentre la partita che si è giocata in contemporanea empoli monza cioè milan torino sabato sera ci ha fregato entrambi dopo il buon pre campionato del milan in casa ci aspettavamo un esordio positivo del milan difficoltoso perché comunque avevano detto io 2 a 1 per il milan io 1 a 0 e invece più difficoltoso di quello che immaginavamo tant'è che il milan fino a pochissimi minuti alla fine del match stava perdendo addirittura 2 a 0 è riuscito in maniera rocambolesca a pareggiare a 2 a 2 con i gol di Okafor di Morata che si è fatto anche male per giocare vabbè lo lasciamo perdere fatto sta che 2 a 2 è pareggio ma non ci prendiamo a nessun punto non ce lo aspettavamo questo pareggio andiamo avanti con Bologna Udinese la sua squadra avevamo dato vittoria a Bologna ci stava comunque Bologna è vero che dopo l'anno scorso insomma doveva essere una partita bella sentita e invece è stata una partita sentita va detto che il Bologna ha giocato bene meritava secondo me la vittoria però alla fine non ha portato a casa più di un punto 1 a 1 io avevo detto 1 a 0 per il Bologna io avevo detto 2 a 1 e quindi in questo caso 0 punti per entrambi con il Bologna peccato peccato che comincia un po' in difficoltà anche se ripeto ho visto un buon Bologna vedremo cosa riuscirà a fare nella prossima difficile partita con il Napoli poi vedremo il progettivo il capitale aveva fatto male però sai arriva Conte la cazzimma occorre prima partita prima partita vuoi esordire non ti aspetti che perda e soprattutto non ti aspetti che perda così sì magari il pareggino poteva anche scapparci fuori dice vabbè però perdere 0 a 3 ragazzi no no anzi scusate 3 a 0 non 0 a 3 a 0 vabbè sei in trasferta però io avevo detto 1 a 3 per il Napoli io 1 a 2 cioè ho visto un po' di difficoltà però non immaginavo una cosa una debacle totale con Conte che a fine partita chiesto umilmente perdone ha cominciato adesso iniziamo subito con i problemi ha cominciato a lanciare le frecciatine dell'Aurentis già insomma cominciano un po' a scornarsi dell'Aurentis e Conte già la prima giornata quindi occhio allora uno come Conte è sicuramente abituato a vincere da un Napoli però che l'anno scorso è arrivato decimo ricordiamolo dovrà avere pazienza devi avere pazienza esatto devi un attimo prendere in mano la squadra e partita dopo partita poi dopo mandare avanti cosa che finora non è riuscita a fare evidentemente vedremo se ci riuscirà andiamo avanti invece con l'esordio delle Romane prima Cagliari-Roma partita deludente per la Roma ultima partita di Dybala con la Roma che è ufficiale andrà in Arabia io un po' cioè è veramente incredibile Dybala secondo me è ancora male ma perché è stato stupito dal progetto arabo sai stupito da quel progetto da 80 milioni in tre anni che comunque è un progetto interessante per il suo portafoglio soprattutto comunque Roma che perde secondo me è quello che almeno tecnicamente è il suo miglior giocatore al di là degli infortuni è stata anche l'unica ad accendere la luce col Cagliari anche se poi non è bastato perché il suo splendido assist è stato mandato da Dovbig sulla traversa com'è come non è è finita 0-0 io avevo detto 0-2 per la Roma io avevo detto 1-1 e quindi un punticino te lo sei preso perché avevi visto l'esordio difficoltoso da Roma devo dire la verità io non pensavo e ci hai visto bene tu e invece l'esordio dell'altra la Romagna è andata meglio Lazio-Venezia l'avevano detto aveva la partita più facile sulla carta con un po' di fatica all'inizio perché era andata sotto poi però ha ribaltato la situazione e ha vinto comodamente 3-1 più o meno ci avevamo preso 2-0 abbiamo detto 2-0 2 gol di scato ma il risultato non è quello giusto quindi qua ci prendiamo un solo punto ottimo l'esordio della Lazio con un castaggiano sui scudi perché ovviamente io ce l'avevo al Fanta l'anno scorso e quindi adesso che non ce l'ho deve segnare con quelli del Fanta calcio dell'anno scorso eh sì andiamo avanti con Lecce-Atalanta e invece esordio molto positivo dell'Atalanta che dopo l'Atalanta è partita col botto sì dopo un primo quarto d'ora 20 minuti dove Lecce aveva una partita in maniera volenterosa l'Atalanta è salita in cattedra ha dominato letteralmente l'incontro ha vinto addirittura 0-4 potevano anche essere di più io avevo detto 0-3 pensavo di essere esagerato e invece dovevo esagerare ancora io avevo detto 0-2 quindi mancavano comunque i colli è un pronostico eh sì un punticino comunque per entrambi perché la vittoria dell'Atalanta l'abbiamo preso vedremo se l'Atalanta riuscirà a dotare per le zone più nobili della classifica vedremo se ci riuscirà anche la Juventus che sicuramente con il come in casa è esordito molto bene la Juve che parte bene ovviamente l'avversario in qua non era dei più ostici era l'altra partita facile però comunque esordio convincente poi anche l'anno scorso la Juve ha esordito in maniera convincente vincente 3-0 poi sappiamo che il campionato non è andato benissimo quindi tutto può essere però insomma esordio buono io avevo detto 3-1 mannaggia buona partenza per Tiago Motta io avevo detto 2-1 quindi anche qua ci perdiamo un punto per Tiago Motta è in co esatto quindi alla fine di questa giornata come vanno le cose ma per il mio Milan non benissimo per il suo Bologna non benissimo tante big hanno deluso ma i nostri pronostici come sono andati qual è il nostro dettaglio io come big da seconda dell'anno scorso un po' deluso sono sincero 6 punti e invece lei 10 punti 10 punti 10 punti prima giornata li metto in cassaforte non male come esordio ma saranno bastati per farti vincere la giornata dai vabbè il suo sorriso vabbè Nillo Nillo vince questa prima giornata dei pronostici della serie A rullo di tamburi Giacomo Garace è la Sara è la Sara tutti e due a pari merito devo dire prima lui per fare la gang ha vinto lei alla pari con Giacomo entrambi hanno fatto 10 punti e quindi eccola guarda diudit pure pure me lo ricorderò le prossime volte quando magari vincerò io quindi vittoria per entrambi seguite da una nutrita schiera di persone che hanno fatto 9 punti Ale Baile ha fatto 9 punti Tony da buonato di Baviera ha fatto 9 punti Alessandro Naccarato ha fatto 9 punti Marco Duminici ha fatto 9 punti e anche Albi subentrato con solo 6 pronostici ha fatto 9 punti quindi direi vincitore morale dei pronostici Albi che con 6 partite su 10 pronosticate ha fatto comunque 9 punti incredibile pensa a cosa avrebbe potuto fare pronosticandole tutte magari potremmo vincere vedete tutti gli altri in grafica ovviamente e la classifica e poi è anche quella globale è una classifica unica essendo la prima giornata ma passiamo i pronostici della prossima giornata cioè la seconda giornata esatto andiamo e poi c'è la seconda giornata piccola premessa questa seconda giornata io sarò un addio al celibato quindi già vi dico che non so quanto come riuscirò a seguire le partite già ve lo annuncio magari arriverò un po' in ritardo cercherò comunque di guardare nel limite del possibile ma i risultati saranno quelli importanti certamente chi guarda questo video sa che potrebbe tardare qualche video nel weekend o mancare qualche video anche perché si parte proprio da Parma Mina proprio nel momento in cui sarò lì all'addio nel momento cruce il mio ho detto magari gioca domenica ovviamente no ovviamente va a giocare sabato alle 18.30 quindi chissà se riuscirò a vederlo vedremo Parma Milan dove comunque io sinceramente questa volta mi aspetto una vittoria del Milan perché già ha fallito l'esordio quella dopo quella Lazio insomma difficile quindi se anche questo è vero il Parma è ostico soprattutto in casa ma se cambiamo anche questa inizia a diventare già fastidiosa le situazioni quindi io dico 1-3 per il Milan un gol lo prendiamo sempre e invece io dico che rimane fastidioso e dico 1-1 ci vuole proprio affossare ci vuole proprio affossare speriamo di no ma anche la Morata che si è fatto male quindi avanti con Jovic grande numero 9 del Milan vabbè e speriamo bene Giro ormai negli Stati Uniti forse era meglio avere voi pensavo a te non ti voglio fare il tristino con questo pronostico poi andiamo avanti con Udinese-Lazio che si gioca in contemporanea con la partita nel Milan Lazio ha fatto un buon esordio ma l'Udinese abbiamo visto anche con il Bologna che pur non giocando una gran partita può essere avversario ostico soprattutto in casa secondo me e alla Dacia Arena per me l'Udinese fermerà la Lazio sul risultato di 1-1 invece secondo me faranno 0-0 risultato molto triste a occhiali vedremo andiamo avanti con Inter-Lecce questo l'abbiamo messo uguale ecco dopo che l'Inter ha esordito in maniera non estremamente convincente contro il Genoa con Lecce in casa con un Lecce che viene da 4 batoste presa dall'Atalanta secondo me l'Inter non si lascerà sfuggire l'occasione di portarsi a casa 3 punti io dico vittoria per 2-0 per l'Inter anche io dico 2-0 è la stessa tua vedremo proseguiamo con Monza-Genua anche qua difficile da definire il Monza è partito così così il Genoa è partito piuttosto bene con l'Inter volevo mettere un altro 1-1 ma alla fine mi sono voluto sbilanciare e ho visto un Genoa che sulle ali dell'entusiasmo del pareggio con l'Inter porta a casa lo scalpo del Monza in trasferta e quindi 1-2 per il Genoa anche io ho dato la vittoria al Genoa non so perché ma questa prima partita mi ha ispirato e quindi ho detto 0-1 proseguiamo con Fiorentina-Venezia si vende qua fuori fanno comizia ma siamo in vacanza è giusto Fiorentina-Venezia è anche qua la Fiorentina ha fatto un esordio non è tutto convincente ma la Venezia l'ho visto veramente male contro la Lazio credo che la Fiorentina in casa non si lasciava sfuggire l'occasione della sua prima vittoria in questa stagione dico 2-0 per la Fiorentina io invece dico 1-0 comunque vittoria per la Fiorentina proseguiamo con Torino-Atalanta qui il Torino ha fatto comunque un buon esordio contro il Milan seppur prendendo due gol nel finale Atalanta ha fatto un ottimo esordio con la Lazio con il Lecce scusate però c'è da dire che il Torino in casa è sempre molto difficile da scardinare motivo per il quale io forse un po' sorpresa ho messo 1-1 tra Torino-Atalanta ci può stare ci può stare io ho detto 1-2 quindi ulteriore fiducia alla Taranta quindi comunque che l'Atalanta continua nella sua scalata e andiamo avanti con Napoli Bologna chissà il tuo Bologna se riuscirà a sfruttare il momento non proprio positivo del Napoli allora al Milan gli ho dato il pareggio al Bologna ho dato la sconfitta perché secondo me il Napoli comunque non può perdere due di fila il Bologna la prima si meritava però con Napoli in casa del Napoli secondo me è molto difficile quindi ho detto 2-1 io invece ho detto 0-0 che poi lo stesso risultato che ci fu l'anno scorso in Napoli-Bologna che si giocava l'andata o era Bologna-Napoli comunque la partita è andata da Napoli-Bologna a finire 0-0 ricordo e quindi ho voluto replicare magari una partita dove Napoli-Bologna non vogliono un po' scoprire soprattutto Napoli per paura di fare un altro figuraccio magari si chiude che non farebbe contenta nessuna delle due squadre soprattutto Napoli ma vedremo proseguiamo con Roma-Empoli la Roma la Roma ha esordito così così ha perso Di Bala però ripeto comunque secondo me ha fatto nel complesso un mercato interessante e l'Empoli la vedo malino quest'anno motivo per il quale ho messo un 3-1 per la Roma in questa partita io ho detto 1-0 però stici molto minimal eh sì ancora c'è un po' di indecisione le squadre sono ancora in fase di preparazione di assemblamento perché si devono un attimo unire i nuovi giocatori il mercato è ancora in corso esatto quindi ci sono ancora un po' di indecisioni quindi vedo sempre pochi gol in questo termine giornata e invece io nella prossima Cagliarico ho visto molti gol anche poi volevo mettere il mio classico 1-1 perché entrambe le squadre non mi hanno convinto eccessivamente all'esordio mettiamolo così o meglio il Cagliarico e la Roma nel primo tempo soprattutto ha fatto una buona partita poi insomma è un po' canata nel secondo il Como molto malvola io ma soprattutto il Como mi ha fatto vedere che questa squadra estremamente offensiva che dietro lascia tanti varchi motivo per il quale mi ha spinto a mettere questo pronostico un po' così a Rocambolisco due a due invece ho detto proprio 1-1 quello che volevi mettere tu eh ci può stare chiudiamo con la Juventus che chiude ancora una volta la giornata come contro il Como nella prima giornata stavolta contro il Verona esatto Verona che è riduce da un ottimo successo contro il Napoli chissà se riuscirà a replicare ad avere un altro scalpo prestigiosissimo magari volare in testa della classifica non credo infatti dico che la Juve continuerà dopo il buon esordio vincendo 2-1 contro il Verona anche secondo me la Juve vincerà ma 2-0 quindi porta inviolata questi erano i nostri pronostici cosa hai fatto? sono schiacciata un dito si è schiacciata un dito per prendere gli occhiali da sole voleva fare la sua gag fai la tua gag visto che sei anche schiacciata un dito guardate la comorina non ci vediamo al prossimo che si mette gli occhiali per festeggiare la sua vittoria nella prima giornata schiacciandosi un dito io vi invito nei commenti a mettere i vostri pronostici ancora una volta vi invito a lasciare un like in iscrizione al canale ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi